Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, e mi sembra che da qualche giorno fa che abbiamo parlato di Nanikos che è riuscito a completare l'easter egg di Barred in soltanto tre persone, invece che quattro, veramente assurdo, vi lascio il video che ho fatto a riguardo in descrizione, mi sembra che sia partita un pochino una run, o comunque sia ripartita molto di più la passione per cercare di completare easter egg in maniera particolare, e specialmente su Black Ops 3 c'è molto spesso, diciamo, la gara a farlo a round più basso possibile. Se non sbaglio su Revelations l'hanno fatto a round 1, una roba allucinante, e anche in altre mappe si spinge a round molto basso, solitamente sotto il 10, round 7, round 8, e di recente questo ragazzo su Reddit che ha fatto il post, Lockheed14, ha fatto l'easter egg di The Rise and Dracke a round 5. Voglio specificare che molto spesso si utilizzano ovviamente le Gobble Gum Mega, quelle molto molto potenti, per spingere molto in avanti le nostre partite, perché è chiaro che uno specializzato, shopping sfrenato e molte altre Gobble Gum molto molto potenti, sono comodi per realizzare certi setup in maniera molto molto veloce, spendendo pochissimi punti, e quindi un round molto molto basso. Ma capita spesso in altre mappe comunque di utilizzare alcuni metodi un pelino secondari per, ad esempio, moltiplicare gli zombie, che un tempo era possibile su Shadow of Evil, penso sia ancora possibile con certi rituali, che se non sbaglio grazie a quel metodo si può fare quell'obiettivo per 360 sempre di Black Ops 3, dove si doveva accendere il Pack-a-Punch a round 1, che in 4 giocatori è fattibile, ma comunque normalmente è impensabile, e quindi come sempre i meme della community si spingono molto in avanti per trovare delle maniere molto strane e contorte per riuscire un attimo a far funzionare la partita come vogliamo noi, appunto attuare un easter egg a un round così basso, per certi versi sicuramente serve della skill, serve moltissima fortuna, ma anche appunto essere in grado di scoprire alcuni meccanismi un pochino secondari, come ad esempio moltiplicare gli zombie con certi passaggi particolari, o comunque sapere perfettamente a memoria qualunque passaggio dell'easter egg, e i modi per forzarlo a round basso, o fare in modo che richieda meno tempo, meno uccisioni, o cose del genere. A quanto ho capito per questo metodo su The Rise and Draghi si utilizza il primo step per il Ragnarok, vicino alla zona del razzo, e in quel modo si ottengono zombie illimitati. A quanto ho capito è una cosa veramente lentissima, che richiede tantissimo tempo, per cui questo ragazzo è stato molto molto paziente, molto lungimirante, e ha continuato a fare immagino tantissimi tentativi fino a trovare la partita perfetta, in cui appunto ci è riuscito a round 5, che penso che andare oltre questo, quindi a round 4 o sotto, sia veramente impensabile. Revelations possiede alcune meccaniche, comunque grazie al tipo di easter egg, è magari possibile farlo a round un pochino più basso. Mi viene in mente anche soltanto l'easter egg di Moon, che richiede la scavatrice giusta per completare l'easter egg, e quindi è chiaro che una partita magari si riesce a farlo a round 13, 14, che è basso. Altre partite abbiamo aspettato la scavatrice fino anche a round 30, perché se non arriva quella giusta, non è detto che per forza dopo posso arrivare, mense la scavatrice che andiamo a disattivare potrebbe tornare una seconda, terza, quarta, quinta volta. E mi ricordo che alcune partite che volevamo fare l'easter egg di Moon, non c'è capitato di aspettare round 32 o 33, anche in due o tre persone, che diventano essere... in senso che sono veramente lunghi questi round, è molto fastidioso, perché ogni volta che aspetti la scavatrice non è quella giusta, e in quel caso solitamente abbiamo rispettato la partita, perché dopo così tanto tempo, così tanti tentativi e così tanto tempo sprecato, è chiaro che diventa molto frustrante, piuttosto si riprova, sperando di beccare la scavatrice a round basso, che sia magari round 8 o round 9, o comunque qualcosa di più fattibile di un 20 o un 30. In generale ci sono alcuni strike di Black Ops 3 dove è possibile appunto forzare, in maniera veramente eclatante, alcune meccaniche per farlo in round molto molto bassi. Mi ricordo che anche Shotoso Vivol, comunque utilizzando le meccaniche giuste, si può fare intorno a round 10-11 in un team comunque abbastanza capace, per quelli proprio diciamo professionisti e che vogliono spingersi molto oltre, sono sicuro che almeno sotto a round 10 è più che possibile. Mi ricordo che anche se Tsubunoshima ci sono alcuni metodi, o comunque è possibile farlo a round basso. Mi ricordo che noi siamo stati bloccati però un po' al passaggio in cui bisogna battere l'aereo e raccogliere quelli che sarebbero i meccanismi per l'ascensore, e più volte appunto alcune partite sono arrivate a round 30 o 40, dove è comunque fattibile però finire l'easter egg a un round così alto è abbastanza bruttino, e mi ricordo al più reclattante di tutti quando ho cercato di fare l'easter egg di Origins in solo per sbloccare il Crazy Place dove girare per fare un round abbastanza alto, che mi ha richiesto fino a round 42 per completare l'easter egg, perché alcuni passaggi se non sbaglio non mi funzionavano come dovevano, forse il passaggio è quello di bucare il terreno con la granata del robot gigante che fa il bombardamento per far uscire i panzer, se non sbaglio quello non mi funzionava, quindi ogni volta finite le granate aspettavo un max ammo o chissà cos'altro, quindi da round 23 è diventato 25, 30, 35, mi ricordo anche il passaggio dei pugni da uccidere gli zombie, con appunto quello che sarebbe il pugno potenziato che è sciotta, mi pare, fino a round 30, quindi molto molto potente, ma quando si è al 40 inizia a fare un pochino più fatica, quindi sono servite molto molti più colpi, molte più uccisioni, però sono riuscito a farlo tutto quanto flawless, di questo sono molto contento, e anche la parte finale che deve essere senza bastoni, però soltanto per utile il MP40 potenziato, anche lì ho rischiato molto, ma sono riuscito a farlo, vi lascio ovviamente sottofondo il video in cui ci riesco, che rimane una delle partite più storiche, almeno a mio parere, un round 87 e poi sono morto, perché uscendo mi ha ucciso un panzer, l'Haitrick Sherry di Black Ops 2 ha dei gran problemi, quindi gli zombie intorno rimangono bloccati, e poi mi hanno ucciso, però mi ricordo che anche su Black Ops 2 si cercava di fare un easter egg a round comunque basso, ho cercato di evitare che la partita risultasse troppo lunga, su Ballad abbiamo già parlato del fatto che ci vogliono ore e ore di tentativi, anche soltanto per il passaggio finale, quindi figuriamoci per tutto il resto dell'easter egg, e anche Dairize mi ha richiesto tantissimo tempo, e ho visto che in generale comunque sono le speedrun di easter egg, ad esempio su quelle mappe come Dairize, Ballad o Transit, siamo anche sotto i 5 minuti, quello è veramente scandaloso, quindi abbiamo magari su Black Ops 2 molto più una speedrun a tempo e non per forza round, anche se lì con la banca e altre meccaniche si fa tutto quasi sempre a round 1, massimo 2, se proprio esageriamo, mentre su Black Ops 3 è chiaro che essendoci più meccaniche, anche una boss fight e tante altre cose in cui magari bisogna uccidere degli zombie, richiede almeno qualche round, quindi vanno in qualche modo moltiplicati o conservati, in modo che proprio ogni zombie conti a ogni uccisione sia importante per andare avanti con l'easter egg, perché il round 5 è già secondo me per una mappa come Dairize and Drak e per il suo easter egg, è veramente fantastico. Sono sicuro che nei prossimi giorni vedremo tante altre imprese per quanto riguarda gli easter egg di qualunque Black Ops, ho visto che hanno anche fatto gli easter egg di Transit, se non sbaglio, in un giocatore, che non è nulla di incredibile, però comunque richiede un pochino di attenzione e capacità, se non sbaglio era la versione di Richtofen o di Maxis, se non mi ricordo bene, è passati tanti anni che richiedesse di spegnere la corrente, quindi niente jug, niente altri perk, niente altro, è un pochino più faticoso, ma sicuramente è fattibile, poi però almeno quando si ha in quattro giocatori, se una o due persone vanno a terra, ci sono gli altri per rianimarlo, in solo invece si va a terra subito e senza revive si muove direttamente. Per cui ragazzi, se qualcuno di voi vuole attentare qualcosa del genere, leggetevi molto molto bene tutti i metodi e i tutorial, perché altrimenti facendolo un pochino a inventiva propria, penso richieda moltissime ore di tentativi, andate probabilmente molto male. Fatemi sapere come al solito ragazzi voi cosa ne pensate di tutte queste imprese che stanno completando per gli easter egg, sparsi un pochino appunto per tutti i Black Ops, sicuramente quello di Buried è molto molto interessante, un'impresa veramente incredibile e quasi impensabile, che è già a quanto ho capito un anno e mezzo o due che ci stavano provando, quindi esserci finalmente riusciti immagino sia stato un momento fantastico, molto molto felice e appagante, però anche questo tipo di imprese per avere un round sempre più basso e vedere un easter egg che si conclude tipo a round 3 o 4, dove noi solitamente stiamo facendo le setup iniziale, uccidendo qualche zombie per fare i punti e aprire anche soltanto le prime porte, fa veramente molto strano. Ripeto che su Black Ops 3 con le Gabblegam è sicuramente molto più facile, però spingersi a round così bassi richiede sicuramente molta più attenzione ed edizione. Spero come sempre ragazzi che vi oggi vi è spiaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio. Alla.